Ehm... Ci inoltriamo verso... Ci inoltriamo verso... Ci inoltriamo verso la... Ehm... Ah, che figata! Bello... Bello... Ah, ecco! Che figata! Questa è una cosa... Notabile! Notabile! Va bene! Ehm... Tutto di qua! Quindi... Mount... L'elementale ce l'ho! Il buff ce l'ho! Posso andare verso... New adventures! New adventures, my friend! Sembrerebbe di no... Cosa è sta roba? Cosa è sta roba? No! Ehm... Ehm... Nooo Ok, that's good. That stair recharging. Allora! Now, I'm not a target. Di castello. Ok. Ok. Ah, qui sono i Portal Masters. Però è bello far fuori anche queste puttanelle. Queste luride baldracche. Cioè, come sprecare? Come sprecare? Ok. Allora, quando è attivo... A fare lì che non so neanche come si chiama. Uno di tre è un Portal Master questo qui, ok? Va bene. Probabilmente. Probabilmente. Questa cosa non l'ho capita. E' sto fuoco strano, sto fuoco fatuo. che bello, ho imparato allora il First Aid e il Cooking. Ma a questo punto potrei andare a riesumare professioni quali Cooking e... Allora, chiudiamo un po' qua perché... C'è una luce che mi contrasta l'occhio. C'è una luce che mi contrasta l'occhio. Il mio occhio notturno. Il mio occhio notturno. Allora, ho imparato First Aid and... First Aid and... ...Cooking. Mettiamo qua tutto. Ok. Se io faccio così, non ho un caso. Non c'ho una minchia. Ma stai un po' qua. Lo stai un po' qua. Ma stai un po' qua. No c'è un po' qua. Allora, c'è un po' qua. Sì, sì, sì. first aid ah bello belle questi qui mi curano per quanto figata queste molto figacciose queste che 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 ma io allora chi è io che che ci sono Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Qui dentro, ok, ci siamo, no? Aspetta, eh? Dove cazzo era? Dove è il bucket di acqua? Quindi è per prendere l'acqua, anche in quel bucket. Allora... Ok. 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 Va bene. Devo far fuori l'altro Portal Master. Ok. 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 Eh, ma che scassamento di minchia, chi è? Un'altra Shadow Moon... Un'altra puttana, insomma. Shadow Moon Voidmancer. Voidmancer. Questo è un portalone e qui ci sarà vicino colui che tiene il portalone aperto. Dove cazzo? Dove cazzo ho lì, eh? Cioè qui c'è il portalone e non trovo il tenitore del portalone. Beh. Zazziamo questa. Oh, buono. Oh. Oh. Oh, gott'o. Oh. Oh. Oh, gott'o. Oh, gott'o. Oh, oh, gott'o. no ma io vorrei capire come cazzo faccio ah aspetta è qua deficiente ma ancora un'altra bambina e palle o eh però bambine svegliatevi ok oh madonna che palle un'altra scepa cuioni scepa cogli